E ora spostiamoci a Trani dove si è svolto un incontro per ricordare Monsignor Vincenzo Franco, arcivescovo emerito di Otranto, nel centenario della sua nascita. Tra i presenti è anche Monsignor Francesco Cacucci, appunto l'arcivescovo di Bari Bitonto. Nell'occasione è stata presentata una pubblicazione sulla figura e l'opera di Monsignor Vincenzo Franco. Le interviste di Francesco Rossi. Sono stato successore nel 1993 di Monsignor Franco. Venivo da Bari, dove ero vescovo ausiliare e dove sbarcò la nave Vlora, come ricordate. Poco dopo, però fino al 1992, gli albanesi si sono recati da Valona verso Otranto. In quel periodo Monsignor Franco è stato una sorta di apostolo dei migranti, perché ha accolto, non solo in seminario, ma nelle tante parrocchie di Otranto, ha accolto questi fratelli. Devo dire che diversi di questi albanesi si sono talmente ben inseriti a Otranto da poi vivere anche dopo. Lo sbarco degli albanesi poi ha ripreso dal 1997 al 1999. Che traccia ha lasciato Monsignor Franco nella chiesa pugliese? Una traccia di, non solo di grande umanità, ma soprattutto di grande carità. Era un uomo di grande carità, così lo definirei. Monsignor Franco è stato vescovo a Otranto, ma è soprattutto un tranese che è stato vicino ai tranesi per tantissimi anni, molti dei quali nella parrocchia della Madonna del Pozzo. Ecco, la vicinanza ai tranesi è stata davvero grandissima, però io vorrei ricordare che questa vicinanza è cominciata, prima di tutto, quando lui dal 1958 è stato nominato parroco di questa zona, di questo centro storico. Allora, per lo più composta da persone di ceto, diciamo molto modesto. E lui per 17 anni ha operato in maniera straordinaria. Lui laureato con una capacità di comunicazione unica in mezzo a queste persone, già questo. Poi, certo, la Madonna del Pozzo è stata la sua parrocchia, diciamo, di elezione, perché lì è maturata la sua vocazione, lì è stato ordinato sacerdote. E lì, da quando è rientrato a Trani, dal 1993, dopo che ha lasciato come vescovo a Otranto, veramente ha operato nel ministero in maniera molto molto bella. E poi, come tranesi va ricordato, per aver restituito a Trani quella magnifica chiesa di San Luigi con la struttura annessa. Era apprezzato per la sua umanità, per il suo modo gioviale di concludere le celebrazioni. Chi non lo ricorda in quel momento? Chi non lo ricorda proprio in quel momento? Che ricordo personale può raccontare di Monsignor Franco? Ma i ricordi in questo momento forse si perdono un po', ma due tratti. Uno, lo hai già ricordato, il suo carattere gioviale, pronto ad una battuta fulminante e quanto mai incisiva, che dava veramente un tocco a tutti i momenti. E poi, l'altra cosa che mi piace ricordare, una sua sorta di giovinezza perenne. Monsignor Franco iniziava la giornata anche a 90 anni suonati, come se cominciasse a vivere in quel momento lì. Questa è una lezione bellissima.